no no Visto che il tuo abiturro ha fatto un film quasi quasi la documentiamo anche hai visto il prodotto che hai dovuto andare dritto non è riuscito a uscire quello con il botolino... quella spark poi sta lì a filmarmi questo è un elemento ma si tanto iscriviti al canale Buongiorno! 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 Vai, vai Paolo, Paolo, andiamo! Siamo arrivati puliti fino adesso! Buongiorno! Buongiorno!